Sono una scarpa secondo me, la doveva testare forse Babboa Natale e ci avrebbe detto solamente cose positive perché nasce per ammortizzare e proteggere chi va piano o chi pesa tanto e quindi forse noi non eravamo adatti per questo. A meno che la riprovo dopo la Sicilia lì. Ho sempre parlato nella mia vita della teoria delle conseguenze inaspettate e questa Bondi 7 di Oka ne rappresenta in effetti l'essenza. Per capirlo partiamo velocemente dalle specifiche, sono scarpe da 297 grammi anche se di fatto sembrano molto più leggere rispetto a quelle della concorrenza, concorrenza che in effetti ha lanciato anche dei mattoni che abbiamo visto e recensito nei mesi scorsi. Hanno un differenziale di 4 mm, 36 mm nel tallone e 32 mm nell'avampiede. Comunque questa scarpa è pensata per il confort e non tanto per la velocità, a differenza delle Clifton 8 che comunque consentono una grande ammortizzazione ma al tempo stesso una buona velocità, la Bondi 7 è una scarpa pensata davvero per correre molto lentamente e per podisti e amatori alle prime armi. In questo caso al posto di partire dalla Tomaia partirei dalla geometria Meta Rocker, geometria che consente al podista amatore e anche quello alle prime armi di correre relativamente velocemente, al tempo stesso di avere una protezione davvero efficace. L'intersuole come al solito in Eva è abbastanza morbida anche se non è così morbida come quella delle Clifton 8. Sappiate però che la cosa non è così male perché questa scarpa consente in effetti una maggiore stabilità, stabilità nonostante i 36 mm di altezza dal suolo che invece in altre scarpe creano fondamentalmente un'instabilità intrinseca nel design della scarpa stessa. Così stabile che i sensori RunScribe avvicinano questa scarpa molto di più a una 4 che a una 3. Ci sono comunque delle caratteristiche che non mi aspettavo come per esempio il tallone che è sicuramente solido ma consente al piede di restare coccolato, oltre soprattutto al battistrada che invece sicuramente funziona tra virgolette dura molto di più rispetto a quello delle altre scarpe, la trazione è ottima e in effetti anche la corsa è davvero molto fluida. Ha una gomma leggera ad alta abrasione che in effetti consente, grazie anche al posizionamento nei punti strategici, di avere un grip abbastanza perfetto e al tempo stesso una durata del battistrada significativamente migliore rispetto a quella delle sue scarpe gemelle o sorelle più piccole. È stata creata una divisione nel tallone che consente ai podisti alle prime armi, quelli che atterrano il tallone, di avere un atterraggio un po' più morbido e al tempo stesso di avere una transizione più fluida che di fatto per chi inizia a correre è fondamentale per evitare anche infortuni. Sarei curioso di capire, di entrare nella testa del designer di questa scarpa, anche perché secondo me la Tomai è stata pensata solamente successivamente, resta secondo me comunque abbastanza traspirante, consente di tenere fermo il piede, ma secondo me ci è qualche dubbio sul discorso relativo allo spazio disponibile nell'avampiede, qualcuno si è lamentato, ad ogni modo vediamo cosa ne pensa il pro depodista. Tra l'altro sarebbe davvero molto succoso se vi iscrivesse al canale per consentirvi di guardare ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie e di allenamenti. Come ho già detto, in realtà sia il dottor Soffientini che il sottoscritto sono riusciti a farla correre agevolmente sotto i 4 km grazie soprattutto alla reattività della scarpa nonostante l'ammortizzazione che questa Bondi 7 offre. Poi è chiaro che a qualcuno questa scarpa potrebbe non piacere per il peso eccessivo e quindi al posto di scegliere la fragola Bondi 7 preferirebbe la Clifton 8 Banana. E parlando del pro depodista, l'ho sentito qualche giorno fa prima di andare in Sicilia, mi hanno detto guardando su Instagram che ha sicuramente preso almeno 5 kg, sentiamo cosa ci ha detto. Tra l'altro questa recensione è proprio grazie ai vostri cofi, quindi vi ringraziamo davvero tanto. Ci vediamo alla prossima, keep running, stay strong, ciao! Andrea sto preparandomi per gli ostacoli, però volevo chiederti, visto che abbiamo fatto la recensione delle Clifton 8 e raccontato che avremmo parlato delle Bondi 7, cosa ne pensi di queste Bondi 7 dopo averle utilizzate per oltre 100 km? Ciao a tutti, guarda ti dico che è una scarpa molto diversa dalla Clifton, pensavo che fosse una Clifton un pochino più pesante, invece vi sono reso conto che correndoci ha anche una schiuma forse anche giustamente più dura rispetto a quella della Clifton, quindi due scarpe diverse, la concezione di massimo ammortizzamento di OCA c'è, è meno filante della Clifton, è molto molto più protettiva. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe e a quale pesi le suggeriresti? Guarda, sono scarpe per persone che hanno un appoggio molto prolungato, quindi persone che viaggiano magari a sopra i 5,30 km al km, e persone che pesano più di 75-80 kg, quindi sono la scarpa perfetta secondo me per gli oversize, che si buttano nel mondo della corsa per dimagrire, è la scarpa perfetta. E se queste persone dovessero avere qualche problema di pronazione le suggeriresti comunque? Guarda, secondo me la possono usare lo stesso perché sul mercato c'è tipo la Cayano, forse meglio, però comunque è una scarpa che è talmente protettiva che anche se i proni un attimino ti sostiene. E per quale distanze le utilizzeresti? Beh, questa qua è una scarpa, come abbiamo detto, per persone non velocissime, quindi le potrebbero usare tranquillamente per preparare una maratona anche senza particolari problemi. Proprio a questo punto per una persona che corre a 5,30 è una scarpa a tutto fare, anche perché mi immagino che i fartle che non vadano molto più forti, né molto più lenti, quindi cerchiamo la massima protezione dalla scarpa e questa qua la può offrire. A livello di calzata suggerisci stesso numero hoca oppure mezzo numero più grande? Allora, suggerisco lo stesso numero hoca, attenzione, questo è un campanellino, sono un po' stretti di avampiede, mi ha dato qualche problemino il mignolino, il quinto dito del piede sinistro perché hanno comunque la tomaia abbastanza stretta, un po' più stretta delle Clifton 7, secondo me. Invece a livello di intersuola, l'intersuola è abbastanza diversa rispetto alle altre, cosa ne pensi e soprattutto secondo te sono più morbide o più reattive? Allora, intanto sì, è vero, l'intersuola è molto diversa da quella della Clifton, è sicuramente molto più dura, quindi sempre per i pesi importanti, infatti faccio fatica a schiacciare l'intersuola per ammortizzare, sembra quasi di correre su, non sono dure che sono scomode, ma sento proprio che l'ammortizzazione non è fatta apposta per me, ma sarebbe da persona un pochino più pesante. Forse l'avevo già detto che l'ammortizzazione di un camion per una macchina leggera, in questo caso sia lì, non andrebbero bene. Non so se dirti più morbide o più reattive, perché non sono scarpe morbidissime, ripeto, forse per uno che pesa 80 kg sono scarpe morbide e non sono scarpe reattive, invece ho corso a 4 e 10, 4 e 5, però è una scarpa che si fa spingere bene. Mi sa che sei l'unico in tutta Italia che utilizza queste scarpe correndo a 4 al chilometro, comunque so che le hai provate anche a 5 e 30 con Running School, a quella velocità cosa ne pensi? L'ho provata anche nei riscaldamenti, sembrasi più morbida, ma per quel fatto di appoggio che ti dicevo, più prolungato a terra, allora diventa una scarpa giusta. Come ho detto prima, è stata pensata per gli oversize e per chi va lento, quindi in quel campo lì sono, credo, uniche, perché alla fine una scarpa così tanto ammortizzata non esiste. Nella prima impressione, nell'unboxing, parlavi del fatto che comunque sembrava il battistrada migliore rispetto a quello delle altre scarpe Hoka, confermi oppure secondo te è uguale agli altri? No, confermo, confermo, non mi ricordavo di averlo detto, però confermo, in effetti si sta consumando di meno e non si è piallata sull'esterno, quindi sì, sta andando meglio che le altre Hoka. E secondo te in effetti quale potrebbe essere la durata di queste scarpe, sapendo che comunque il podista medio che le compra pesa 80 kg, quindi quanto secondo te possono durare? Eh, questa qua è una domanda un po' strana, perché ti dico, chi pesa 80 kg e corre, corre relativamente poco, non fa 7 su 7, quindi secondo me fanno quasi in tempo scadere di più le scarpe, ma direi comunque 600 km o comunque 6 mesi di scarpe, dopodiché sono da cambiare. Dico 6 mesi proprio perché ho la cosa che tanti magari non riescono a raggiungere i 600 km in 6 mesi. E invece Andrea, l'avevi già detto, ma vorrei ribadirlo, per chi pesasse 70 kg o 65 kg, le raccomanderesti comunque oppure suggerisci di passare alle Clifton? No, lì direi le Clifton, perché comunque sono una scarpa più prestante, comunque tanto protettiva, 70 kg o una Clifton diciamo che ammortizza e protegge molto meglio. Secondo te a livello di scarpe simili, quale ci sono sul catalogo delle varie aziende? Guarda, di simili praticamente c'è poco e niente, ripeto, secondo me la Cayano, che è una scarpa però per pronatore, sennò davvero è difficile trovare una scarpa per persone oversize. Mi viene in mente la Invisible di Nike, però per uno che pesa 80 kg o 85 kg si spiattellerebbe molto prima di questa. Quindi secondo me è proprio unica nel settore. E secondo te Andrea, quali sono i pregi e difetti di queste Bondi 7? Ma è difficile dirlo, i difetti perché, ti dico, su di me ho visto che sono poco ammortizzanti, ma ho spiegato prima il motivo. Sono una scarpa, secondo me, la doveva testare forse Babboa Natale e ci avrebbe detto solamente cose positive perché nasce per ammortizzare e proteggere chi va piano o chi pesa tanto e quindi forse noi non eravamo adatti per questo. A meno che la riprovo dopo la Sicilia, lì potrei fare la, come si dice, la recensione con più di 80 kg. Comunque ti dico, secondo me sono solamente pregi perché è una scarpa fatta apposta per chi corre lento ed è fatta bene e l'unico difetto forse incontrovertibile è la tomaia un po' stretta. Va bene, grazie Andrea, speriamo di recensire ulteriori scarpe Hoka nelle prossime settimane. C'è sempre il discorso della famosa Rincon 3 che uscirà tra pochi giorni quando ritorni dalla Sicilia. Penso che quello sia il mio regalo per te. Ciao Max, grazie. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.